Restituiti al quartiere i giardinetti di Piazza Italia dopo i lavori di riqualificazione realizzati dal Comune e dalla Municipalità di Fuorigrotta Bagnoli anche grazie al contributo tecnico della società partecipata Napoli Servizi. È stata rimessa in funzione anche la fontana al centro della piazza col sistema idraulico collegato ed è stato rifatto l'impianto elettrico per illuminare l'aria anche di notte. Ripristino appunto del sistema idrico con delle fontane per abbellirlo, per migliorare l'arredo, è stato curato il verde che insiste sulla piazza e anche sono state installate delle giostrine proprio per i bambini quindi per poter migliorare la fruibilità e la viabilità di una piazza così importante che è il fiero all'occhiello l'ingresso della nostra Municipalità di Fuorigrotta e Bagnoli. La riapertura dei giardinetti ha assunto anche valore simbolico a sostegno della legalità. Ad aprile la piazza era stata teatro di una sparatoria in cui era rimasta accidentalmente ferita una cittadina intervenuta questa mattina all'inaugurazione.